Aspetta, no sì sì, è uno, è uno, è uno, mi stavo confondendo però era giusto Portiamo anche Giorgio, altrimenti poltrisce e deve fare idiota Un cannello, un metro, ecco qui Grazie Perché devi strillarci nelle orecchie? E sta rotta poi Senza motivo, eh? Perché un po' Cosa sta facendo? Non capisco Perché sta strisciando? Oh, è il mio inter... la mia vera natura Aspetta che mi esistavo Ma io la scaccio perché Ma una persona quanto può essere fuori luogo al mondo? Io non lo so, si è messa a parlare, è da un po' che non la faceva questa cosa È molto grave questa cosa Si è allontanata parlando da sola Era tutta lei Ma è deficiente, eh Cioè ma senza alcuna ragione al mondo?